Quindi Warzone lo giocano su un altro client, giusto? Sì sì ho visto due block, vabbè è normale, è il prelobby questa Per ora non sembra cambiato un cazzo da Warzone 1, da quello che vedo Però è un'impressione magari A me non sembra più grande la mappa ragazzi, a me sembra piccolissima Guarda tre piastre Non mi piace questa cosa del sistema di loot personalmente È tipo la corazza di Apex, ok È come se ci fosse poco loot O è magari la zona Il fatto di lootare delle casse l'hanno preso da God Mobile Ma quindi pure quando ammazzi un player droppa tipo lo zaino Come era in Blackout Ma quindi vuol dire che magari tu puoi mettere gli accessori sulle armi Perché prima ho visto che ha raccolto quest'arma qua è l'Hackman E vedete che ci sono delle robe gialle con dei quadratini? Che sono gli slot quelli probabilmente Scusa, puoi premere tab? Questo è lo shop E puoi comprare le armi? Non puoi mettere gli accessori sulle armi? Non c'è il lancio di cui baggio a me Che vuol dire non c'è il lancio d'approvvigionamento? Hanno cambiato due delle cose che rendevano Diciamo Warzone Figo e innovativo A mio parere Cioè non è cattiveria raga Però Io l'ho sempre detto Una delle cose positive di Warzone Era il fatto di creare la tua arma Che la senti tua Con gli accessori che ti piacciono E roba varia Dall'altra parte Il Gulag Da 1 contro 1 a 2 contro 2 Perché? Non Non le capisco queste scelte Qual è il Dicoy? Ah Non si può acquistare lo d'auto Ma può acquistare la tua arma modificata Singolarmente da quello che dicono Su Twitter Ok Questo già è diverso Però Così toglie il fattore loadout No? Il rischio di tirarlo Di perderlo Il fatto che c'erano le zone dove cascavano i loadout E tutta la gente si riuniva lì per prendere gli airdrop Senza perk e senza nulla? Non ci sono i perk? Non la vedo come una brutta cosa questa Se non me ci sta No no Senza perk sti cazzi personalmente Il loadout l'hanno d'auto per via dei meta Se finirei a giocare con armi senza rinculo Ma mi hanno appena detto che tu puoi shoppare le tue armi Che ti crei Invece che shoppare il loadout Vorrei vedere il time to kill La vorrei vedere Oh c'è la chat globale Ci sono i bot Ah davvero l'hanno detto però sta cosa Che c'erano nel multiplayer Quindi l'hanno messo pure qui Secondo me è solo perché all'alpha sicuramente aggiungeranno molte cose nel gioco completo Ma esce tra metà novembre 16 novembre giusto Tra due mesi Non è che ti possono cambiare il gioco Cioè il gioco sarà così Come lo vedi ora Ah ora vediamo lo shift delle tre zone Secondo me hanno aumentato lo skill gap Però ci sono molte più attività che richiedono skill rispetto a più E prendi loadout e spari Quali sono queste attività che Almeno Cioè almeno non ho visto nessuna presentazione Quindi non lo so Hanno rallentato molto i movimenti pure del vaulting vedendo Dato che c'è questa animazione a due mani dove puoi estrarre l'arma Per me è furbo togliere il loadout Uno dei problemi sono proprio le armi che ti laserano da 200 metri Molto più divertente quelle armi da terra per tutti Vero 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 Quello è vero perché fa le armi con zero recoil Con caricatori giganteschi Però bisogna vedere Il time to kill Fa un po' cagare sto menu Se vi devo dire la verità Fa molto rate Sì il menu del loot è fatto di merda Guardi in alto a destra Ci sono 19 squadre e 42 player in questo cerchio Che bella sta zona Che figa Vorrei vedere quando uccidono un player Com'è il loot sul player Perché qua vi faccio una domanda Perdo due piastre Vado a lootare un player che ho ucciso Gli prendo la sua armor plate Da tre piastre Quella a livello 3 Come la volete chiamare Mi fulla tutte le piastre in un millisecondo O no Orco 2 che sticca che gli sta Boom Sticca E fa l'armor swap Guarda no spoiler ok Sì come la monoswap di Apex Non c'è la canta Ma era lui che non correva Che stava Si stava piastrando così lento Questo è il gulag 2v2 Ah lo fa con Bobby però Figo Urco Urco No ma che figa sta visuale E' scappato via con la chiave Come ha fatto Mi hai descritto prima Come fai a prendere la chiave C'è quindi il gulag c'è pure un bot Uccidi un pletti dalla chiave Il bot lo uccidi in sto caso Perché non c'erano abbastanza player Vorrei capire il time to kill Oddio Sì il sistema di loot Che cos'è Ah no la chiave Perché Bobby c'ha il simbolo Della chiave Quindi hanno messo Questa meccanica per il gulag Per uscire fuori Il time to kill è leggermente più alto Di warzone 1 E allora Quello che ho visto prima Non lo so Però con l'hp Senza accessori L'ha sciolto il tipo Altissimo non gioco per telefono Perché E' il sistema di loot Che non mi piace Perché l'hanno Oddio è un player questo però mi sa Perché cammina così lento Con Quando piastra Non puoi più piastrarti in corsa Cioè almeno da quello che vedo io A me sembra Che hanno Rallentato il gioco Tutto Le cure Il movement Time to kill però A me sembra sempre straveloce Massimo due piastre senza zaino No Da portare Intendi Perché ho visto che ne puoi avere tre Con il giubbotto antiproiettile L'unica cosa è che Non capisco perché La scelta di cambiare Cioè Non riesco a concepire Perché hanno cambiato Alcune Alcune meccaniche del gioco Che era Ciò che ha reso warzone Un gioco vincente Non riesco Strong or locked Perché c'ha la chiave lui Allora il simbolo non è No no non ho capito Totalmente un gioco diverso In alcune cose si Cioè hanno cambiato ciò che funzionava Non riesco a capire l'inventario Non riesco a capire Oh non l'ha visto sopra Porca troia Non l'ha visto Mi sono cagato sotto L'inventario è all'apex Quindi tipo Mi posso portare Tipo le piastre occupano uno slot No E che Quante piastre puoi avere massimo In uno slot Tre Quindi volendo Io posso portarmi Che ne so Quattro slot di inventario Mi posso portare Tre Qua Quindi tipo apex Praticamente Ci sono anche gli zaini Per aumentare la capienza Però Ti curi veramente lento Ragazzi Beppe malandra Per i sette mesi È nato con i 43 Bambalume Con i 28 Ma l'ha sciolto Ma il loot Non c'è una cassa a terra Oddio Oddio Non lo so Sto sistema di loot Se mi piace o no O due Stompato Non so Il tento che Il sembra bassissimo E le aim assist Sembra uguale Perché Apathy È un ex È un ex pro Di COD Tra l'altro Vediamo un po' Coraggio Bobbi e Sim Ma vediamo un po' Come giocano No Perché non è innovazione Hanno cambiato Tante meccaniche di gioco L'unica cosa Però che dico io È perché cambiare Delle meccaniche Però vincenti Del tuo gioco Tipo perché Un cambiamento Così al gulag CO2 Che cazzo È arrivato addosso Vabbè ma quanto va lento Quando ti piastri Sì Tipo Il loot Il movement Il gulag Cioè hanno cambiato Quella roba Che era semplice Per i giocatori L'idea del loot Allora L'idea del loot Non è male Ma è organizzata Di merda CO2 Bisogna per forza Finire la ricarica Di cosa Dell'arma Tipo l'Apex Ah ecco ora Appena schiacciato Sul giobbotto Antitroietti Appena Schiacciato Sulla Sacca di piastre A terra E non gliela Suappate Ho shotto un cazzo Porco lui Scusatemi Non ho capito la cosa Che avete detto Della ricarica Io ricarico un'arma Tolgo il caricatore Sto per mettere l'altro E vado in corsa Che succede Su Warzone Mi rimette l'arma Con i colpi Che avevo prima In questo caso Non è più così Ma riparte la ricarica Da zero O è tipo Apex Tipo Apex Che se io blocco La ricarica Per correre Per fare qualcosa Dopo mi riprende La ricarica Da lì Magari l'armi Mi rincolassero così Sarebbe una bomba Non usa la stun Ma perché Si è curvata Si è inclinata La visuale Gli ha Appisciato In gola No Si è suonato da solo Oddio le stun Sono orribili Però Sono come quelle vecchie Non capisco Perché gli si gira La visuale Mentre spara Cioè guardate Si Si tilta la visuale Non lo so È come se hanno L'impressione Che sto avendo Vedendo il gameplay E che abbiano Rallentato tanto Il gioco Comunque si modificano Magari Come di Se ti puoi modificare Le armi Con gli accessori Stile Apex Forse è meglio Forse è meglio Con questo sistema Di loot Perché il sistema Di loot È una merda vera L'hanno fatto Su blackout Ma non era piaciuto A me blackout Non mi piace Raga sinceramente Warzone è molto più bello Ma warzone è bello Come gioco Alla fine Però ragazzi Scusate ma Sono tre ore Che è in questa parte Di mappa Ma com'è possibile Che hanno scolato Le zone Vorrei che si fermasse Un secondo Premesse tab E ci facesse vedere L'inventario Che ha addosso Per capire Ha solo tre piastre Un neve di tre Perché ha uno slot Eccolo Oh Lui si sta portando Ora Backpack Questo è lo zaino I soldi che occupano Uno slot 240 munizioni R Altre 63 munizioni Extra La sacca di piastre Che occupano slot E ti da tre piastre Una granata Ne non so che tipo Tre munizioni per il lanciarazzi Due stun Due Non so che sia sta roba Slot vuoto E tre piastre Peccato il floor loot Cioè è come se ci sono Degli spot prefissati Tipo Ho visto che ci sono Delle panche E degli scaffali Ah lo slot vuoto Sono per le killstreak Oddio Aspetta Ciciu Tu dici che lo slot vuoto Sono per le killstreak Ma guarda bene qua Lui il bombardamento Ce l'ha qui Non Non conta come slot Del backpack Le killstreak Ah forse il kit di reanimazione No Ce l'ha Ce l'ha già il kit Ma non lo so Non lo so No Non l'ho capito Non l'ho capita sta cosa Non Non l'ho capita sta cosa Perché quando lo stava per uccidere Ricomparso il simbolo delle piastre Non si è mai piastrato Quell'avversario I passi sembrano di Cristo Veramente Forse l'immortalità Quando caschi a terra C'hai un secondo di immortalità E ti segna quello scudo Sì Ho pensato Che puoi portarti solo piazza È una delle prime domande Che ho È una delle prime Domande Oh ma No Vabbè Rotto Rotto No Vabbè Il veicolo è rotto Regali L'idea del gulag In duo È fighissima Però È una merda Che la giochi con gente Che non è con te A destra Che senti i passi Ah no Nick forse Però questa è una cagata Non è meglio Che tu devi andare Nella porta È troppo figa Sta visuale È troppo figa Regà Sta visuale È troppo figa È troppo figa Sta visuale Regà Veramente troppo bella Sembra di or not Vi stavo dicendo La cosa che vi stavo dicendo prima Era Sarebbe meglio Se tu con la chiave Vai Dalla parte opposta Sai dove spawni Non che torni indietro al tuo spawn È una cazzata quella È appena la prendi Wow E piotti via La gente che si lamenta Senza averlo provato Vabbè Ma l'utente medio Farà sempre così Oh ma quanto sta durando Regà ma quanto sta durando Questa partita Scusate Quanto tempo è che stiamo a vedere Sto match Cazzo quanto sta durando C'è se sono 30 minuti Che dura 40 minuti Un match Fini in endgame Guarda Guarda Quello si stava piastrando Quello si stava piastrando Quanto cazzo ci stava mettendo Ah Lo zaino lo devi aprire Per lootarlo Ho visto che gli è comparato Sopra i miei Per aprirlo Dio che casino Che loot Ah no per prender Era per prenderlo Ho detto una cazzata Niente Sì non si capisce un cazzo L'ha fatto meglio Warzone 1 E loot Per te c'è di stare Allentare il gioco Eh ma è veramente lento Così Forse troppo Cioè secondo me Stanno togliendo Quello che sono I punti di forza Di Warzone 1 Non capisco Questa scelta Questa che a lui È modificata Quindi ha preso L'arma di un utente Che aveva modificato E comprato allo shop Perché Perché se tu Io non ho capito Perché ho visto che c'è Buy weapon Allo shop Credo che tu compri La tua arma Con gli accessori Che gli hai messo Prima di cercare la partita Se esatto Dovrebbe essere esattamente così Non che tu vai là Premi compra E ti dà gli accessori Dell'arma Tu compri l'arma Come l'hai equipaggiata Nel prelobby Ok grazie Dicono che da body looting Fa abbastanza cagare Eh perché è stramacchinoso È per quello Ah vedete cosa ha fatto Lui c'ha due siringhe Ora come tattica Come granata tattica Però ha preso Le fumogene da per terra Le smoke bomb E ce l'ha nell'inventario Quindi tu puoi swapparle Al posto delle siringhe Se vuoi Mortacci L'ha esploso Ragazzi L'ha guardato un attimo Se esplose le piastre What the fuck Sì Senza il cursore di Apex Non è il massimo È quella la cosa Però quello che stavo dicendo è Hanno messo sicuramente Delle aggiunte interessanti E nuove Soprattutto Però hanno elevato Alcuni punti di forza Di Warzone Cioè io l'ho sempre detto L'immediatezza di Warzone È il fatto che tu entri Giochi E fa il cazzo che ti pare Le armi Ti guarda i video su youtube Così vedi quelle che ti devi liberare Il gulag è figo Perché è il gulag Però hanno cambiato I punti di forza del gioco Perché cambiare ciò Che il tuo gioco fa Va bene Ed è innovativo E unico In qualcosa di nuovo Mi è figata Stavo dentro Terminal Porca droga Algetto sui detti Eh come fai Quei stanno sul tetto La quelli Sì Quelli stanno Nooo Da fuori in zona Bella la schermata Di fine partita Figa la schermata Di fine partita Grazie a tutti.